Il tempo cambia e cambiano anche i protagonisti di questa storia. Le chiedo, in questi ultimi giorni ha accusato un'uscita importante dal suo partito, quella di Donati, che ha aderito al progetto di Tabacci. In Groia, che oggi ha annunciato la sua volontà di scendere in prima persona come Premier, Presidente del Consiglio, ha detto Di Pietro faccia un passo indietro. È rimasto solo? Non è vero. Oggi In Groia non ha detto Di Pietro faccia un passo indietro, anzi, ha detto faccia Di Pietro e l'Italia dei Valori, come altri partiti, altri movimenti e associazioni, un passo incontro alla società civile. E la prego quindi di dire esattamente le parole di In Groia. Io riportavo la parola di In Groia di due giorni fa, poi magari ha corretto il tiro. Allora, voglio dire, le rendo noto che la candidatura di In Groia è la candidatura di una personalità che ha dimostrato il coraggio, il valore, l'impegno nella sua professione, non qualsiasi, ma da magistrato, e che oggi si mette al servizio dei cittadini. L'Italia dei Valori, che è una formazione politica che ha fatto della legalità un punto di riferimento importante, e oggi della giustizia sociale, con la raccolta delle firme sul referendum, con quella sulla centrale nucleare, con quella con l'acqua pubblica, con quella del referendum sulla legge elettorale, eccetera, oggi mette a disposizione la sua forza, il suo elettorato, il suo impegno, insieme ad In Groia, per costruire un'alternativa di governo rispetto alle politiche di Berlusconi prima e di Berlusconi travestito da Monti dopo, perché in alternativa c'è soltanto un possibile accordo bersani-Monti, vale a dire ancora una volta un compromesso storico a ribasso in cui per far quadrare i conti lo si fa pagare, è più debole e più onesto. Di Pietro, dica la verità, ma ci crede ancora nel Partito Democratico una possibile intesa? Diciamo, in queste ore si sta votando e c'è il Partito Democratico insieme a Sinistra, Ecologia e Libertà, si parla di un'intesa post-elettorale con Monti e l'area di centro. Lei ancora continua ad alimentare qualche speranza? No, io mi rivolgo direttamente agli elettori, ai cittadini, a tutti quei cittadini che hanno visto la differenza fra la politica parlata e annunciata da Monti è quel che è risultato essere il suo programma di governo in quest'anno di governo, cioè più disoccupazione, più disuguaglianza sociale, più recessione, più debito pubblico. E mi rivolgo a quei cittadini che vogliono veramente opporsi alle politiche di Monti e di Berlusconi, dicendo loro guardate che il Partito Democratico ha perso questo impegno che ha preso con i cittadini e stiamo costruendo un altro centro-sinistra che ha come punto di riferimento una persona di valore, Antonio Ingroia, e che mette insieme società civile, esponente della società civile, partiti, movimenti, che in questi anni, e vorrei ricordare a tutti, che l'unico partito presente in Parlamento che ha fatto cinque anni di opposizione a Monti e a Berlusconi è l'Italia dei Valori. Oggi ci proponiamo per costruire un'alternativa di governo a queste politiche, perché a me interessa portare avanti una politica che abbia maggiore giustizia sociale. Oggi, come oggi, l'hanno già detto, Monti ha già detto che ci vogliono tanti marchionne in Italia. Marchionne è quello che butta fuori gli operai dal suo stabilimento e porta i suoi stabilimenti dopo che ha preso i soldi dall'Italia all'estero per fare semplicemente finanza... Di Pietro, lei ha accennato prima, ha detto la parola, movimenti, oltre che partiti, perché comunque Ingroia sta guardando molto ai movimenti, molto alla società civile. Lei è comunque un esponente di un partito. C'è chi ci ha pensato con un po' più di anticipo rispetto a Ingroia ed è Beppe Grillo al Movimento 5 Stelle. Lei ha dimostrato, ha mostrato la disponibilità, peraltro Grillo sta continuando la sua battaglia per la raccolta delle firme, lei l'ha aiutato, tra virgolette. In che rapporto, come si pone con Beppe Grillo alla luce appunto di questa scadenza elettorale prossima? Noi dell'Italia Valori abbiamo un enorme rispetto per quei cittadini che per protesta non sfasciano le vetrine, ma si sono messe tutti insieme a costruire un movimento civico come il Movimento 5 Stelle. Nel Movimento 5 Stelle ci sono i cittadini che vogliono andare in Parlamento per far sentire l'altra voce, quelli che sono sempre stati oppressi. Insieme a noi, quindi, contiamo in Parlamento, nella prossima legislatura, di rappresentare quella parte dei cittadini che non vuole sentirsi sempre torchiata, attorto da quella politica che, per far quadrare i conti, ripeto, fa gli interessi del sistema finanziario, del sistema bancario, dei sistemi dei poteri forti e non gli interessi dei più deboli. In questo senso, io con Grillo mi sento spesso, ancora anche ieri sera mi sono sentito per questo, lui va da solo, lui va per protestare, noi andiamo per costruire un'alternativa. Ci auguriamo che intorno alla figura di Antonio Ingroia, tutti coloro che vogliono costruire un'alternativa abbiano il coraggio di fare un passo indietro e due avanti. Abbiamo pochi secondi, ma è possibile, lei parla sempre di alternative, centrosinistra, alternativi a centrosinistra, alternativi a Bersani, alternativi a Monti, alternativi a Ingroia, a Grillo. Si riesca di parcellizzare, di dividere troppo questa fronte del centrosinistra che comunque vede in Bersani, al momento, stando ai sondaggi, un fronte abbastanza accreditato per la vettoria finale. Le chiedo anche in dieci secondi, non sono troppi questi magistrati, c'è la critica troppo, ognuno ha un'identità ben precisa, ma Ingroia, Grasso. Guardi, nella scorsa legislatura in Parlamento ci sono stato un centinaio di persone condannate o rinviate a giudizio, è meglio che ci sia qualche buon magistrato in Parlamento che qualche delinquente di troppo in Parlamento sotto questo aspetto. Per quanto riguarda il frazionamento, le voglio segnalare e ripetere ancora una volta che l'accordo centrosinistra con Monti è un accordo innaturale per quanto riguarda la realizzazione dei programmi. Noi depositiamo, e glielo annuncio qui, il giorno 9 di gennaio, quasi un milione di firme in Cassazione per approgare l'articolo 18. Qual è questo centrosinistra che rappresenta i lavoratori? Quello che si vuole accordare con Monti o quello che sta con l'Italia dei Valori e con oggi, diciamo, una rivoluzione civile insieme ad Ingroia? Da qua a febbraio vedremo come andrà a finire. Però ricorda ai cittadini che chi vuole fare una rivoluzione civile troverà un manifesto e anche un simbolo, rivoluzione civile. Grazie Antonio Di Pietro, grazie per essere stato con noi.